Benvenuti su Unica Channel, subito in rete l'edizione del WebTG. Sul canale tematico Unica Sport, nuova avventura per gli appassionati di sport estremi con Beyond the Edge. Su Unica Eco, politici, imprenditori e semplici cittadini parlano sensibilità ambientale nelle eco-interviste. Martedì 17 aprile, benvenuti all'edizione completa del WebTG di Unica Channel. Il maltempo sta flagellando Napoli, strade allagate, bassi invasi dall'acqua, tombini che saltano insieme con la ZTL. Questo è il quadro della città in queste ore. Decine delle telefonate ai vigili del fuoco intorno alle 10.30 del mattino. I primi terranei hanno iniziato ad allagarsi. Nel corso della giornata, annunciano i meteorologi, altri poderosi scrosci si abbatteranno sulla città. Sono le conseguenze del ciclone Lusi, che porta con sé la seconda perturbazione, non meno intensa per precipitazioni della prima. Paralisi a Piazza San Nazaro, dove la Polizia Municipale ha allentato i controlli della ZTL e ha fatto defluire il traffico sulla riviera di Chiaia. Quest'ultima strada però è allagata e la circolazione è difficile. In particolare si è paralizzato in tarda mattinata Viale Gramsci, dove le auto sono rimaste completamente ferme per oltre mezz'ora. Problemi anche al Corso Vittorio Emanuele nella zona alta della città. Problemi per l'area ospedaliera con traffico in tinte e allagamenti per le principali arterie di comunicazione. E in Viale dei Pini ai Colli Aminei il crollo di un albero su una macchina ha fatto sfiorare una tragedia. E proprio riguardo alla tragedia sfiorata ai Colli Aminei abbiamo sentito a telefono Giuliana Di Sarno, presidente della Terza Municipalità. Vediamo che cosa ha dichiarato. Si è sfiorato la tragedia perché l'albero è caduto su tre macchine, due ferme e un'altra che invece stava camminando. In macchina c'era anche un bambino, quindi la cosa non è un albero, non è un ramo, ma purtroppo è proprio un albero. Tengo a precisare che noi già da novembre di quest'anno, del 2011, abbiamo mandato una lettera al Servizio Manutenzione Verde Centrale, perché non dipende dalla municipalità, proprio individuando tra i pini in pericolo proprio questo che poi è stato, che è caduto. Che cosa si potrebbe fare? Ci vogliono controlli continui, perché poi le calamità naturali, non è che si possa fare molto sulle calamità. Se uno riuscisse a prevenire, eventualmente andando a fare dei controlli con intervalli meno lunghi, allora probabilmente anche di fronte alle calamità più disastrose si potrebbe cercare di prevenire quello che fortunatamente oggi si è rassentata. 200 milioni stanziati dall'Unione Europea sono pronti per essere investiti al Sud Italia. La Campania è in prima linea, ma a Napoli si sono già fermati i cantieri di Bagnoli. Vediamo il servizio. Il progetto Smart Cities, finanziato dall'Unione Europea, porterà all'investimento complessivo di 200 milioni di euro in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le priorità individuate dalla regione Campania sono tre, mobilità e logistica, energie e beni culturali. Le quattro regioni saranno le prime in Italia a beneficiare del progetto, che verrà gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è quello di rendere più vivibili le città e migliorare la qualità della vita degli abitanti. Un'occasione per ripartire che la Campania e tutta l'Italia dovranno sfruttare al meglio in un periodo certo non facile, vista la crisi economica. Investimenti onerosi sono già stati spesi a Napoli, dove solo il budget legato alle World Series dell'America's Cup prevede una spesa di circa 25 milioni di euro. Un investimento oneroso per il quale si tenterà di avere uno sconto, ma che potrebbe portare benefici in termini di immagine, ma non solo, alla città. Purtroppo però a Bagnoli si è registrato uno stop ai cantieri e i difondi della società di trasformazione urbana Bagnoli Futura sono stati bloccati dai creditori. A Napoli non si ricicla, o meglio, lo si fa molto poco. Secondo i dati acquisiti dalla provincia, infatti, la percentuale dei rifiuti differenziati nel capoluogo campano si ferma al 18,4%. Nella speciale graduatoria la città si colloca all'ottantottesimo posto tra i 92 comuni della provincia, che invece tocca punte massime sopra il 70%. E secondo la direzione distrittuale antimafia di Napoli, i finanziamenti indirizzati alle comunità, che dovevano sopportare la vicinanza di discariche, impianti e piazzole per le ecoballe, nel Casertano nel 2007 sarebbero in realtà stati divisi tra politici, imprese fittizie e il clan camorristico dei casalesi. L'imprenditore, presidente della Smanon, che è ex uomo politico legato ai democratici di sinistra in Campania, Achille Natalizio, risulta indagato nell'ambito di un'inchiesta sul rapporto tra politica e camorra nel Casertano. Secondo la procura, Natalizio nel 2007, nel quadro generale dell'emergenza rifiuti, sarebbe stato lo sponsor politico di un gruppo di imprenditori, attualmente detenuti per concorso esterno in associazione camorristica, nell'assegnazione dell'appalto da circa 13 milioni di euro del programma integrato di riqualificazione urbana ed ambientale. L'ex sindaco di Villa Literno, Enrico Fabozzi, i costruttori Giovanni Malinconico e Pasquale Giuseppe Mastrominico e l'architetto Claudio Valentino risultano tra gli altri indagati dell'inchiesta. Siamo ancora alle indagini preliminari, ma dopo il via libera del Tribunale del Riesame, la DDA ha già compiuto numerosi interrogatori ed arresti, che sembrano suffragare l'impianto accusatorio. Scarpe e borse firmate, ma perfettamente false. In tre giorni, due maxi sequestri tra Napoli e provincia. Il mercato del tarocco è incrementato per l'America's Cup. 600.000 scarpe finite o in fase di lavorazione, prodotte nell'Interland partenopeo, da cedere ad ambulanti operanti in mercati del Nord Italia ed in Puglia, o attraverso la vendita online. La Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo in queste ore 29 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di un'organizzazione criminale dedita alla fabbricazione e alla commercializzazione di scarpe con Marco Hogan contraffatto. Le indagini delle fiamme gialle hanno consentito di sequestrare 17 opifici e depositi, 160 macchinari, 21 cliché riproducenti, il celebre marchio. Nei giorni scorsi, proprio in concomitanza con l'America's Cup, più di 2.000 borse ed accessori contraffatti col marchio Louis Vuitton, partner storico della celebre competizione velistica, sono state sequestrate sempre dalle fiamme gialle. I finanzieri hanno scoperto una fabbrica clandestina che produceva borse di alta qualità con il marchio contraffatto della celebre casa di moda, in un locale interrato e accessibile solo da una piccola porta dietro un'autorimessa. Sequestrate circa 300 borse complete di custodia e pronte per la vendita, 1.700 accessori metallici, 20 metri di tessuto di pellame, 300 semi lavorati, 8.000 cartellini, tutti marchiati Louis Vuitton, 10 macchinari industriali e 4 banchi da lavoro. Due giornalisti di altrettanti media online hanno vinto il premio Pulitzer 2012. È la prima volta che il Web si aggiudica l'Oscar del giornalismo. Ad essere premiati l'inviato di guerra David Wood e l'Huffington Post ed il vignettista Matt Wurker di Politico.com. Si tratta di un segno del cambiamento del panorama dei media, ha scritto il New York Times, sottolineandole l'importanza simbolica. Nello specifico, ecco la vignetta che descrive la crisi dei banchieri che fanno il bagno con uno stile che ricorda molto quello di Paperon de Paperoni. E cambiamo decisamente argomento, passiamo allo sport. Nell'ambito dell'inchiesta legata al calcio scommesse, l'ex portiere del Napoli, Matteo Gianello, ha rivelato che ci fu un tentativo di convint tra Sampdoria e Napoli, del 16 maggio del 2010. Vediamo il servizio. Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, indagato assieme ai fratelli Michele e Federico Cossato e a Silvio Giusti, tutti ex calciatori, nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse, è stato interrogato dai PM napoletani. Gianello ha parlato di un tentativo di convint per la partita del campionato 2009-2010 tra Sampdoria e Napoli, vinta dai blucerchiati per 1-0. Secondo l'ex portiere azzurro, Giusti chiese informazioni sulla partita, dicendosi disposto a ricompensare i giocatori del Napoli che avessero accettato di perdere contro i Doriani. Gianello ha affermato di essersi rivolto a Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, che tuttavia si sarebbero rifiutati. Ma non avendo denunciato l'accaduto, i due giocatori rischiano adesso almeno di essere indagati per omessa denuncia, mentre il Napoli, se dovesse emergere una responsabilità oggettiva, potrebbe incappare in dolorose sanzioni. E come ogni settimana sul nostro canale tematico Unica Sport prosegue il viaggio nel mondo degli sport estremi. Stavolta parliamo di Base Jumping. Edifici, torri, ponti o formazioni naturali. Tutti i possibili punti di lancio per gettarsi nel mondo del Base Jumping. Il Base Jumping è uno sport derivato dallo skydiving. La differenza tra questi due sta nel fatto che nel Base Jump gli atleti si gettano giù da un punto fisso. Il Base Jumping è nato nel 1978, quando Carl Benish ed altri paracadutisti esperti, dopo un'intensa fase di deazione durata circa un anno, si gettarono dal Capitan nel parco naturale di Yosemite in California. Dalla fine degli anni Ottanta iniziarono i lanci dalle antenne di trasmissione radio e televisive ai punti ed il fenomeno si è espanso anche in Europa. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordiamo l'appuntamento a partire da domani mattina alle 9.30 con l'edizione Flash del nostro WebTG. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.